Salve e bentornati alle news settimanali, alle GPNews comunque. Questa settimana ci sarà da tanto tanto da parlare di NVIDIA. NVIDIA perché, lo sappiamo, le schede video non arrivano. Più che altro non sono le schede video in sé, perché NVIDIA ce le avrebbe anche già da lanciarci dietro le schede video. Sono i chip che fanno parte delle schede video. E quindi, di conseguenza, NVIDIA si è trovato costretta a, diciamo, dare un contentino che penso non faccia felici quasi nessuno ai fornitori, quindi di conseguenza agli utenti. E quindi ha deciso di rimettere in commercio, tra virgolette, più che altro dare fondi di magazzino alle aziende varie, quindi MSI, Asus, i produttori di schede custom. Si parla comunque di dare delle schede video di una, di due schede video in particolare. Una è della gen scorsa e fin qui ci può ancora quasi stare. Ovvero la 2060. L'altra è di una generazione di 5 anni fa quasi. Parliamo della 1050 Ti che già ai tempi non riscosse successo. E quindi, perché NVIDIA? Perché questo contentino potrebbe far arrabbiare di più la gente anziché dirgli, ok, almeno c'è qualcosa. Per intanto, meno male, sono schede che si trovano ancora relativamente facilmente. Aumentarne la quantità non penso vada a far felici gli utenti, soprattutto quando hai detto che le schede video nuove saranno nettamente superiori a metà del prezzo delle quelle prima. Quindi, eeeh, eeeh. Comunque, tra l'altro, guarda qua. Questa è l'Apple Pencil di Secondo Gen, regalatomi dai miei amichichichichi, che non dirò i nomi, però voi che guardate questo video sapete che mi avete regalato questa penna. E io ve ne sono infinitamente grato, grazie. Detto questo, parliamo ancora di una volta di NVIDIA. Nella prossima news, ovvero, magari qualcuno lo sapeva già, si stanno facendo già da settembre 2020 delle contrattazioni tra NVIDIA e ARM e il TD, perché NVIDIA sta concludendo l'acquisizione dell'ultima. E questa cosa non solo sta procedendo e sta quasi venendo conclusa per la modica cifra di 40 miliardi, anzi, probabilmente è già stata chiusa negli ultimi giorni. Ma, ma, molte aziende si stanno opponendo o comunque si stanno lamentando di questa cosa, perché potrebbe andare contro una politica antitrust, quindi bisogna vedere come continuano queste cose qua. Comunque, negli articoli che ho trovato si parla di tre aziende che si stanno impuntando maggiormente, ovvero Microsoft, Google e Qualcomm. Una di queste tre si sta impuntando talmente tanto da cercare di boicottare l'accordo o cercare di annullarlo, effettivamente. Non specificano quale, però, quindi, boh, bisogna ancora, bisogna ancora vedere, perché. Comunque, parliamo di due aziende grandi, NVIDIA e ARM, e comunque parliamo anche di aziende che si stanno lamentando di questa cosa, come Microsoft, Google, Qualcomm, Amazon, Apple. Perché molti utilizzano comunque i loro codici o comunque robe dati in accomodato d'uso o acquistate o roba del genere, quindi, eh, non ne è proprio happy in una situazione. Poi, 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 parliamo di offerte, visto che qua ogni tanto un'offerta ci avete in mezzo a tutti quelli che sono interessati, su Amazon sono in offerta i nuovi MacBook Pro e MacBook Air M1, col chip M1. Parliamo, io adesso me li sono segnati, parliamo della versione 8GB di RAM, 256GB di SSD, che va in sconto a 1129, da 1159, quindi 30€ di sconto. Versione MacBook Air, 8GB, 512GB SSD, pass, va a 1359, da 1429. E il MacBook Pro, 310 pollici, 8GB, 512GB, va a 1618, da 1709, quindi quasi 100€ di sconto. Buono, devo dire, degli ottimi, degli ottimi sconti, soprattutto perché è un prodotto nuovo, con un chip stat innovativo, e anche, soprattutto, perché sono comunque difficili da trovare. Quindi, magari, se qualche videomaker, qualche fotografo, qualcuno che ha bisogno di un computer performante per l'università o roba del genere volesse, questo è uno sconto da mettere in conto. Ovviamente, se si è nella possibilità, comunque, sono prezzi abbastanza alti. Poi, parliamo di Starlink. Starlink è l'azienda, il progetto fondato da Elon Musk e da SpaceX, per avere la connessione internet super performante senza latenza tramite satelliti. E' arrivata in Italia, sono stati aperti i preordini, ma ha una cifra abbastanza... Neeeeh... Parliamo di un costo anti-anticipo per il blocco di prenotazione di 99€. Poi, parliamo del momento effettivo della spedizione, che comprenderà l'hardware, quindi la parabola e il router, per la modica cifra di 499€, più 60€ per la spedizione, e 99€ ogni mese per l'utilizzo del servizio. Questa cosa avrà accesso limitato, attualmente, come test italiano. E devo dire che mi sarebbe piaciuto provarlo, ma è una cifra veramente improponibile. Quindi, niente. Comunque, andate sul sito di Starlink, potete vedere voi stessi i costi effettivi. E nei commenti, magari fatemi sapere cosa ne pensate. Io penso che Starlink sia una figata, ma purtroppo costa un da cifra. Uh, hanno achierato CD Projekt Red. CD Projekt Red è una nota azienda polacca di videogiochi, produttrice del più recente Cyberpunk 2077, o del noto titolo, o più che altro la nota saga, di The Witcher. Hanno achierato la CD Projekt Red, portando via i codici sorgenti del gioco di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Questi ultimi sono stati messi all'asta nel Deep Web, che sono stati acquistati, mi sembra, due giorni fa, quindi a conclusione dell'asta, a 7 milioni di dollari, tutti e due insieme. Quindi, non lo so, cacchio? Cioè, non pensavo che potessero, qualcuno potesse veramente ad arrivare a tanto per avere dei codici sorgenti di un gioco, tra cui uno di 6 anni fa, però, sì, boh, ok. Come ultima news, visto che è stata una settimana abbastanza fiacca, non ho trovato tantissima roba, quindi mi scuso per il video corto. HBO sta producendo, come magari molti saprete, la serie TV su The Last of Us e ha confermato pochi giorni fa gli attori che interpreteranno Joel e Ellie. E devo dire che io sono deluso, sono molto deluso, io sono fan della saga, sono molto, molto fan della saga, e mi hanno tirato fuori dei Joel e Ellie, no, 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 dei Joel e Ellie, no, brutto, no, no, no. Per carità sono bravissimi attori, perché li ho già visti recitare, ma non come volto, mi dà fastidio come volto. Comunque parliamo di Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Non lo so, Pedro Pascal forse con un po' di trucco, con un po' di sistematina, Joel potremmo ancora arrivarci, quindi mi esco molto un po' di meno, ma Bella Ramsey recita benissimo, ma non c'è il volto, i lineamenti, le espressioni facciali, non mi dà la sensazione di Ellie. Non so se mi capite, ma, boh, non lo so. Non mi, non mi, non mi convince. Comunque vi butto in mezzo che è uscito Wonder Woman 1984, parlato nello scorso video, bello, bello, l'ho visto, consigliato. Ovviamente non è un filmone da Oscar, ma molto, molto bello. Bella colonna sonora, molto, molto bella. Soprattutto piacerà anche Hans Zimmer in mezzo. Niente, dopo aver detto queste cose qua, mi scuso ancora per il video corto e vi ringrazio per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Se ve lo siete persi, andate a recuperarvi il video news della scorsa settimana. Grazie ancora ai miei amici chichi per la penna, per l'Apple Pencil di seconda gen. Grazie per la visione. Questo è tutto. Ciao. Grazie.